Ciao ragazzi, visto che nei social mi state bombardando di richieste su dove poter vedere questa maledetta prima puntata della seconda stagione di Kaguya Sama, adesso vi darò una risposta. Vi ricordo come sempre di cliccare sulla campanellina e iscrivervi al canale e detto ciò vi spiego un attimo la situazione. Purtroppo una delle migliori commedie romantiche nipponiche non è stata ancora acquistata qui in Italia da alcuna piattaforma, quindi non potrete trovare Kaguya Sama nemmeno con la sua prima stagione su Netflix, su Yamato Animation, su Vid, su Crunchyroll o qualunque altra piattaforma legale. E io di questa cosa nemmeno me ne capacito e sono veramente incazzato perché devono assolutamente prenderla, anche perché sta seconda stagione è già partita col botto. Quindi il motivo per cui non la potete vedere è perché nessun fansub l'ha attualmente sottotitolata. Vi confermo che domani 14 aprile uscirà la prima puntata sottotitolata in italiano da alcuni fansub, potete informarvi su chi siano vedendo appunto su qualche sito come fansubdb o social anime che appunto vi dice chi sottotitolerà le puntate e potrete scaricarle direttamente da lì, quindi vi lascio il link qua nei commenti. Quindi o aspettate domani per poterla vedere sottotitolata in italiano oppure potete vedervela oggi in inglese. Vi lascio qua sotto il link nei commenti, teoricamente non si dovrebbe fare ma tanto nessuno ce l'ha e quindi voglio dire potete anche vederla prima in inglese e poi in italiano per capire meglio la situazione. Quindi ragazzi spero di esservi stato utile, mi raccomando lasciate un like, seguitemi sempre su tutti i social per restare aggiornati. Noi ci vediamo in un prossimo video.